Avanti un altro, Marco Giampaolo difficilmente sarà il prossimo allenatore del Pescara. Torna quindi prepotentemente in corsa Marco Baroni, ma attenzione anche a Pasquale Marino e al nome a sorpresa che potrebbe essere quello di Alessandro Calori, molto stimato dal presidente Sebastiani. Il Pescara continua il suo casting per assegnare la panchina per la stagione 2014-2015 e ieri c'è stata la prima audizione negli uffici di Sebastiani con Marco Giampaolo. Un incontro durato due ore in cui si è parlato di questioni tecniche, di mercato e dei giocatori ancora sotto contratto. Il summit è servito anche e soprattutto per capire le richieste economiche dell'allenatore giuliese. Giampaolo ha chiesto un solo anno di contratto con opzione di rinnovo che il Delfino potrebbe esercitare a fine campionato. Si tratta sulla base di 200.000 euro più bonus, play-off e promozioni in Serie A che porterebbero il tecnico a guadagnare 250.000 euro, spese per lo staff tecnico escluse. La dirigenza ha stretto la mano pronunciando la frase «Ti faremo sapere» un chiaro segnale del ridimensionamento della pista Giampaolo. Il Pescara non ha intenzione infatti di spendere più di 300.000 euro l'ordi. Torna quindi in corsa l'ex tecnico del Lanciano Marco Baroni che piace molto alla proprietà e potrebbe avere un incontro nelle prossime 48 ore. Bisogna tener conto che Baroni quest'anno ha guadagnato 100.000 euro a Lanciano e quindi potrebbe teoricamente accettare uno stipendio leggermente più alto tra i 130.000 e i 150.000 euro mettendosi in gioco in una piazza calda come Pescara. L'ex rosso-nero però non è l'unico nome sul taccuino. Pavone e Repetto proveranno di nuovo a parlare con Baby Pillon e ci si sta muovendo anche per avvicinare di nuovo Davide Nicola. Il tecnico del Livorno però viaggia su cifre ben più alte rispetto a quelle che potrebbe proporre il Delfino. In questo momento quindi con la candidatura di Giampaolo sempre più fragile l'uomo forte sembra essere Baroni. Il terzo incomodo potrebbe essere Pasquale Marino. L'allenatore siciliano esonerato nello scorso mese di febbraio è ancora al libro paga della società e qualche giorno fa ha avuto un contatto con i Biancazzurri ma con molta probabilità non sarà lui a sedersi nuovamente sulla panchina del Pescara.